Musica Buonasera a tutti, mi chiamo Federico Dragone e ci ecco l'anima a Giavella La ragazza teale, deve essere seria, soprattutto deve comportarsi bene, dobbiamo andare d'accordo, deve partire da 19 a 22, 23 Musica Sono un ragazzo serio e ci ecco l'anima a Giavella, che fino adesso non ho trovato, spero di trovarla Io sto sempre a massarla, nelle zone di Portanova e Cassero eccetera eccetera Musica Musica Ho un bel carattere, sono un ragazzo serio, io tratto bene le ragazze, deve essere però la stessa cosa, gli amici mi vogliono bene Usciamo, andiamo a mangiare la pizza, eccetera eccetera Musica 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 E' da un anno e mezzo che sono single e mi sono stancato sinceramente di stare solo Cerco, cerco l'anima a Giavella per stare insieme e andare al centro, nei negozi, pizzeria, discoteca, eccetera eccetera Musica Musica Qualsiasi ragazza mi può contattare, anche di Mazzara Castelvetrano, Massala, Pedosino, da dove viene Pima Musica Sono stanco di stare da solo, spero di trovare questa ragazza Musica Musica Per chi mi volebbe contattare, mi può chiamare al numero sotto iscrizione del video Aspetto le vostre chiamate, chiamate con il numero, non con lo sconosciuto, perché non rispondo Un grande bacio da Federico Zagona Musica 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 Musica